Benvenuti, benvenuti al consueto appuntamento di Caserta Sera con Dietro la Notizia il nostro approfondimento giornalistico. Oggi parleremo dei distretti del commercio e dei comuni matesini che hanno aderito a questo importante progetto per lo sviluppo e rilancio territoriale. Ovviamente di tutto questo parleremo subito dopo la sigla con importanti ospiti che sono già pronti a rispondere alle nostre domande. Sigla! Bene, ritorniamo in studio e andiamo subito a presentare i nostri rappresentanti dei comuni che fanno parte di questo progetto che viene denominato Alta Campania, è giusto? Sigla District. Sigla District, esatto. Il nome corretto è Alta Campania, ci la dici. E che sono? Fabio Civitillo, presidente del consiglio del comune di Piedimonte Matese, benvenuto. Buonasera a tutti. Franco Imperatore, sindaco di San Potito, Sannitico, benvenuto anche a lei. Grazie direttore. E infine, ma non ultimo, l'assessore del comune di Alife, Luca Frattolillo, benvenuto anche a lei. Buonasera a lei, grazie. Bene, diciamo che una settimana fa possiamo annunciarlo, parliamo, diamo la parola subito al presidente del consiglio. Sì. La settimana scorsa è avvenuto, diciamo, un fatto importante. Sì, c'è stata la deliberazione da parte della regione Campania, il riconoscimento del distretto Alta Campania-Cila District. In realtà i distretti del commercio sono presenti in Europa già dagli anni 90, ma la regione Campania ci ha dato la possibilità di partecipare e con la sinergia del comune di Alife e con il comune di San Potito abbiamo creato questo distretto del commercio. In realtà che cos'è, per spiegare in parole povere a chi ci ascolta, il distretto del commercio. È un'attività volta a migliorare sia la mobilità all'interno di questi comuni e a valorizzare quelle che sono le realtà commerciali locali, creando un vero e proprio centro commerciale aperto per valorizzare i prodotti locali. Ecco, Sindaco, quanti sono i comuni e quali sono? Allora, i comuni che hanno aderito sono tre, praticamente abbiamo Pietimonte-Matese, Alife e San Potito-Sanitico. Questi sono i comuni che hanno dato vita a questo distretto commerciale naturale. Voglio aggiungere semplicemente a quanto già ha detto il collega Fabio Civitillo. La legge regionale, diciamo che ha la legge quadro del commercio, è stata istituita solo nel corso dell'anno 2020. Nel 2021 sono nate le linee guida, quindi diciamo si è passate all'attuazione. Immediatamente ci siamo organizzati come territorio per fare in modo da fare da apripista, perché voglio dire subito una cosa. Noi siamo i primi tre comuni, ma ciò non toglie che altri comuni che vogliono aderire possono farlo tranquillamente o addirittura possono creare nuovi distretti commerciali. Chiaramente il distretto commerciale, diciamo naturale, che abbiamo creato serve un po' a contrastare quello che è direttore la monopolizzazione del mercato commerciale da parte della GDO, che come agronimo tutti conoscono, che è la grande distribuzione. Chiaramente noi vogliamo, diciamo almeno l'intenzione è quella di creare le condizioni per far sì che ci sia un'identità territoriale, perché bisogna puntare sulla competitività, i nostri commercianti devono puntare sulla competitività non solo da un punto di vista di miglior prezzo, ma anche della qualità. Quindi quella identità territoriale serve proprio a questo, cioè a far sì che ci sia marcatamente quello che è il territorio in quello che noi facciamo. Voglio, faccio questo breve, diciamo e poi concludo, noi abbiamo il marchio regionale del Matese, però la maggior parte non lo sa. Quindi noi abbiamo questo marchio del Matese, che è un'identificazione forte, è un segno di marketing importantissimo, che però purtroppo non viene utilizzato. Allora il distretto commerciale serve proprio anche a creare all'interno, diciamo, della struttura una governance che possa essere d'ausilio e affiancare quelli che sono i commercianti, e voglio sottolineare, i commercianti non della GDO, ma sono quelli delle classiche botteghe, quelli delle classiche negozi di vicinato, quindi gli esercizi di vicinato, e parliamo di piccole realtà commerciali. Che in qualche modo potrebbero anche andare a rianimare un'altra volta i centri storici. Assolutamente sì, mi dà uno spunto importantissimo, perché all'interno proprio del distretto commerciale vi è non solo tutto l'aspetto consulenziale, quindi diciamo di supporto alle attività, ma c'è proprio una misura, un tema preciso, che è la rigenerazione urbana. Noi idealmente, quando parliamo di distretto commerciale, dobbiamo pensare, in modo plastico, ad un grande centro commerciale, che ovviamente comprende i tre comuni, San Potito, Alife e Piedimonte Matese. Ma si devono creare, c'è proprio una misura specifica per la rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana significa che dobbiamo cercare di investire su quelli che sono gli spazi, per fare in modo che le persone incominciano ad abituarsi in modo diverso, non solo a fare la spesa presso il negozio, ovviamente dove vogliono andare, ma anche per socializzare ulteriormente, perché ormai, diciamo, anche dopo il Covid, c'è stato un distacco da quella che è una socializzazione, si va sempre più veloci e questo purtroppo va contro quelle che sono le abitudini, le cosiddette tradizioni di una volta, che invece ritroviamo nel distretto commerciale. Assessore, quanto credi in questo progetto? Moltissimo, perché mi allaccio subito a Franco, dicendo che appunto il concetto di distretto commerciale non è finalizzato esclusivamente alla valorizzazione dei prodotti locali, ma è uno strumento messo a disposizione della Regione e che noi fortunatamente abbiamo colto, che permette di valorizzare il territorio, i territori dei comuni che hanno partecipato al distretto, non solo, ripeto, attraverso la valorizzazione dei prodotti agricoli piuttosto che locali, ma anche e soprattutto attraverso strumenti che poi saranno declinati nel corso d'opera da parte della Regione mediante dei finanziamenti o cofinanziamenti con la Camera di Commercio, che permetteranno la valorizzazione dei territori, dei centri urbani, quindi attraverso iniziative volte a ripristino e a recupero dei centri urbani, per quanto riguarda l'IFE in particolare per la valorizzazione dell'importante patrimonio storico ed archeologico, quindi è uno strumento molto molto più ampio rispetto a quello che potrebbe apparire declinando la parola commerciale. È chiaro che tutto questo è finalizzato alla creazione di ricchezza e quindi attraverso strumenti che andranno nella direzione dell'incremento delle attività turistiche, delle attività culturali, delle attività sociali e, come dicevamo prima, delle attività delle imprese agricole che noi tenderemo di coinvolgere, ma soprattutto attraverso strumenti che rendano più forte la competizione, come diceva Franco, rispetto alla GDO. E questo ci vedrà impegnati. Presidente, i prossimi passi burocratici quali saranno? Allora, innanzitutto c'è stato un primo passo, il primo passo è stato con le associazioni di categoria che sono state ConfCommercio e ConfEsercenti e adesso dobbiamo cercare di raccogliere altre adesioni, questo sempre per cercare di migliorare e di ingrandire quello che è il progetto, perché naturalmente più sono presenti i partner e migliore sarà la qualità delle possibilità a cui noi possiamo accedere. E' chiaro che, come dicevano i colleghi di San Potito e di Alife, oltre a valorizzare i prodotti locali e soprattutto quello che diceva Franco, che trova importantissimo, il Covid ha rivolto moltissimo verso l'e-commerce, cioè tutti comprano ormai, comprare su internet è qualcosa di assolutamente quotidiano, quindi ripromuovere il territorio attraverso questa iniziativa è sicuramente un punto fondamentale ed è importantissimo per arrivare a un rilancio che poi deve essere ovviamente quello del territorio e quella anche della migliore fruibilità di questi tre comuni e la possibilità anzi di allargare quella che è presente oggi, cioè i tre comuni di cui viene in monte il capofila, anche i comuni limitrofi. Sindaco, diciamo concretamente, quando potrebbero partire? Io credo a breve, a breve possiamo, credo con il permesso dei colleghi, possiamo già svelare qualche anteprima, ci sono già delle misure concrete messe in atto dalla Regione Campania che vanno nella direzione di, parliamo di finanziamento agevolato, per tutti gli attori principali che dovranno essere propri commercianti, piccoli commercianti, quindi a brevissimo ci sarà la possibilità di poter fare delle domande per poter migliorare quello che è il proprio standard. Mi collego ad uno spunto importantissimo che ha dato Fabio, quindi il collega di Piedimolo. Nelle varie attività che il distretto commerciale offre, noi dobbiamo pensare in grande perché il ruolo istituzionale è quello di essere vicini a 360 gradi a quelli che sono gli operatori economici e quindi gli operatori commerciali del settore. Allora bisogna, visto che c'è ormai questa tendenza sul discorso dell'e-commerce, c'è un problema che noi stiamo affrontando che è quella della desertificazione del territorio e quindi diciamo c'è sempre più abbandono di giovani. Purtroppo, ahimè, dobbiamo invertire un pochino la tendenza, però di fatto ci sta che la popolazione va sempre più invecchiando. Allora nel distretto commerciale sono previsti dei servizi proprio di aiuto a quello che è la forma di acquisto, cioè l'acquisto diretto da parte degli anziani stando a casa. Quindi c'è la possibilità, è una sorta, pensiamo per un attimo a una ipotesi diciamo di marketplace e quindi creare quelle strutture, diciamo, telematiche, ormai l'informatica, voglio dire, la utilizzano tutti, e creeremo delle strutture, faremo in modo di creare delle strutture ad hoc, perché chiaramente non possiamo pretendere che le persone più anziane possano essere avvezze a un discorso di acquisto con le app e quant'altro, ma cercheremo sempre di privilegiare quello che è il sistema tradizionale, però con un servizio aggiunto, cioè ovvero noi metteremo a disposizione delle strutture, faremo sì di mettere a disposizione delle strutture, tipo modelli di marketplace, proprio per fare in modo che le persone possono acquistare e la cosa più importante è che possono arrivare la, diciamo, la cosiddetta spesa direttamente al domicilio delle persone anziane. Tipo online? Perfetto, perfetto. Online in piccolo, in miniatura, perché è calato su quella che è la, diciamo, richiesta specifica del territorio, perché non ci dimentichiamo che, lo abbiamo detto prima, ma lo voglio ribadire, perché il distretto commerciale serve a marcare fortemente quello che è il territorio, quindi la territorialità e non dobbiamo assoluta perché è quello il fine per il quale poi ci siamo messi insieme e stiamo cogliendo questa opportunità, io dico. Assessore, ma, diciamo, questo progetto è uguale per tutti i comuni o ci possono essere delle variazioni dal punto di vista organizzativo? Ovviamente non sostanziali perché c'è una legge ben precisa. Ma la fortuna è proprio questa, che abbiamo tre territori sicuramente diversi per espressione culturale, per espressione di produzione agricola, per caratteristiche urbanistiche, quindi ci sarà sicuramente un coordinamento che calerà poi sulle singole realtà i progetti che più saranno congrui e confacenti alle singole realtà. C'è qualche incontro a breve? Sì, stiamo concordando a breve, ci sarà un incontro con le associazioni e poi con la Camera di Commercio, naturalmente per andare a concordare tutte quelle che saranno poi le attività future. E quello che mi sento di dire è che, vero, noi siamo tre comuni con realtà diverse, però sempre di più, anche per il discorso che diceva Franco, per la nostra ormai impoverimento di giovani che abbiamo, dobbiamo ragionare non più come singoli comuni, ma bensì come comunità, come territorio fatto alto, sì, con una grossa sinergia. Abbiamo bisogno di ragionare non più come comuni distaccati, ma bensì veramente come un territorio unico, come Alto Casertano, per stare insieme, per dare importanza al nostro territorio e ai nostri prodotti introvabili, secondo me. Bene, il tempo mi sembra scaduto, mi fanno cenno dalla regia, quindi la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete dato questo contributo per spiegare ai molti che forse ancora non conoscevano questi progetti e ci sentiamo alla prossima, sicuramente ritorneremo su questo argomento. La regia sigla.